Ben tornati e bentornate sul canale, sono Green Vanship, quarto episodio di Little Alchemy. Non ci giocavamo da un pochino, è quel fantastico videogame dove noi dobbiamo unire più elementi per crearne di nuovi. Per ora ne abbiamo scoperti un centinaio su oltre 500, sono 580 in totale, noi ne abbiamo scoperti un centinaio. Allora oggi andremo avanti un po', vediamo di farne almeno una ventina, trovare almeno una ventina di combinazioni che danno, che formano un qualcosa di nuovo, un elemento nuovo. Allora, per esempio, vedete funziona così, l'acqua e l'aria ha formato la pioggia. Però, come ad esempio abbiamo creato la caldaia, io non saprei come usarla, però intanto la teniamo lì e vediamo se nel corso dell'episodio riusciamo a far qualcosa con la caldaia. Allora, come vedete i nomi, ve lo ricordo per chi fosse anche la prima volta che vede il gioco, che vede un video su questa serie, che sotto all'oggetto c'è il nome. Quindi vedete, casa sotto c'è, c'è scritto casa, il campo sotto c'è scritto campo, che così noi capiamo che cos'è. Però ecco, vedete, abbiamo unito un contadino con il campo e abbiamo creato il grano e quel gioco funziona così, il meccanismo è quello. È un gioco di logica, noi dobbiamo capire come combinare i vari elementi. Però ecco, vi stavo dicendo, sotto all'elemento c'è il nome dell'elemento stesso. Quando il nome è sottolineato, vuol dire che quell'elemento non è più combinabile con gli altri, cioè è finito così, non si può fare altro. Quindi però, noi potremmo andare avanti a combinare tutti gli altri. Adesso per esempio abbiamo trovato il grano, dovremmo riuscire a trovare il modo per, ecco vedete, per esempio l'oasi aveva il nome sottolineato perché non può essere ulteriormente combinata, cioè non si può combinare con nessun altro elemento. Però ecco, adesso noi dovremmo capire un attimino che cosa fare con il grano. Prova a creare la legna, è da un po' che sto provando a creare cose, ve lo assicuro. Allora, prova a creare la legna, vabbè, noi proveremo a creare anche la legna, nell'episodio di oggi. Così ci spremiamo un po' le meningi. Però, per esempio, vedete, abbiamo il freddo, cioè bassa temperatura. Ecco, abbiamo trovato la neve, abbiamo creato la neve. Adesso, in teoria, con il grano e con la neve, noi dovremmo trovare il modo di farci qualcosa, di combinarli a loro volta. Per esempio, neve e acqua non succede niente, io pensavo creasse la grandine, pensa un po'. E invece è idea sbagliata. Freddo e acqua, avete visto, abbiamo creato il ghiaccio. Adesso abbiamo il ghiaccio e anche questo deve essere combinato con qualcos'altro, perché, come vi dicevo, finché il nome non è sottolineato, va bene tutto. Ma, ecco che abbiamo scoperto la farina. Fantastico, adesso se io la farina la combino con l'acqua, troviamo l'impasto. Perfetto o no? Direi che ha perfettamente senso, logico. Allora, vediamo, l'impasto con l'acqua non succede niente, l'impasto con se stesso non produce nulla. Nulla con il ghiaccio, men che meno. Boh, a volte si può anche combinare un elemento con se stesso. Per esempio, più alberi formano una foresta. Quindi, le combinazioni sono tante. Ecco, l'impasto con la casa, casetta di pan di zenzero. La casetta di Selle Gretel, praticamente. Vabbè, il nome era sottolineato, quindi l'ho tolta. Ok, allora, metallo. Il metallo con se stesso non fa niente, però se combino il metallo con il ghiaccio, creo il frigorifero. Ottimo, quindi frigorifero via, perché non lo possiamo combinare con niente altro. Il ghiaccio e il fuoco danno l'acqua. Più acqua da mare, più mare da oceano. E più oceano non si combina più con se stesso. Allora, ho fatto un po' di pulizia. Vediamo se riusciamo a... Mattone niente. Mare niente. Niente, malattia. La malattia... Di per sé la malattia rimane così. Umano e malattia, più malattia. Vabbè. Eccolo lì. Un uccello con il metallo abbiamo creato l'aereo. Più aerei fanno l'aeroporto? No. Niente. Niente aeroporto. Pensavo, era, poteva essere un'idea. Vita e niente. Tiriamo via. Un uovo. Un uovo con la foresta. Ecco, qui è il caso di dirlo. Abbiamo fatto la frittata. Uovo e fuoco crea la frittata. Ok. Bene, se ci pensate, non è male. Allora, vediamo la diga. Sono qua che cerco ancora di trovare il legno, io, eh. L'acqua con l'albero, con la pianta. Abbiamo trovato l'alga. Ok, quindi con l'acqua niente, più alghe. Aspetta che lo duplico. Ok, più alghe non fanno niente. Teniamo qua l'acqua un attimo. Con la diga non succede niente. Acqua e vita fanno il plankton. Ma noi lo avevamo già scoperto, quindi non vale. Cioè, sì, non vale. Nel senso che non è un nuovo elemento. Ecco, la pressione con la lava ha creato il granito. E il granito non può essere combinato con niente altro. Ecco, per esempio, anche il tempo. Il tempo... Il tempo bisogna capire anche quello con cosa... Vediamo. Con cosa combinarlo. Teniamo lì l'albero. La casa con il tempo crea le rovine. Ok. C'è una costruzione antica. Teniamo lì il tempo. Allora, vediamo. Aspettate un attimo, eh, perché uno deve... Eccolo lì. Bufera di neve. Bufera di neve, ragazzi. Adesso cerchiamo di combinare un pochino gli esseri umani con altri elementi. Perché abbiamo trovato il contadino, abbiamo trovato l'angelo, abbiamo trovato tante cose. Adesso cerchiamo di trovarne ancora. Vabbè. Due esseri umani fanno l'amore. Cioè, formano l'amore. Allora, con l'acqua, niente. Con l'aereo, il pilota. Perfetto. Aereo e pilota, niente. Niente. Via. Allora, continuiamo con gli esseri umani. Con l'alga, niente. Con l'albero, niente. Con l'aria, paracadutista? No, speravo. Poteva starci, però. Con l'atmosfera, pensavo facesse astronauta. Con il campo, il contadino. Il contadino col campo, il grano. Con il carboncino, poteva essere un pittore. Famiglia con la casa. Ok. Quindi niente. Via. Aspettate che pulisco un attimo la tela qui. Catena montuosa. Speravo il nonno di Heidi. Niente. Con la città, niente. Con il deserto, niente. Diga, niente. Ah, se combino l'essere umano con l'energia, creo lo stregone. Ok. Ok, allora, niente. Aspetta, fammi vedere quel fango, niente. Con la farina, il panettiere. Giusto? Giusto? Essere umano e farina, panettiere. Ehi, aspetta, aspetta. Metallo ed essere umano crea lo strumento. Fermi un attimo che questo è importante. Aspetta, aspetta. Aspetta un attimo perché qui vedo molteplici possibilità. Aspettate un secondo, strumento, strumento, strumento. Questo qui ci servirà, credo. Aspetta, aspetta, facciamo un po' di ordine. Gli esseri umani li tengo, li metto qui. Qui, qui. Casa via. Ok, strumento e terra fa il campo. Strumento e tempo forma l'orologio. Bene. Oh, secchione e strumento ha creato il computer. I due computer hanno creato l'internet, ragazzi. Cioè, oggi fra frittate e internet siamo poderosi. Veramente. Veramente. Aspetta, vediamo. Sto provando a fare altre combinazioni. Io provo, provo, cioè nel senso. Ecco, la pietra e lo strumento crea la statua. Ottimo. Allora, un attimo, eh. Ok, allora, occhiali e strumento forma gli occhiali di sicurezza. E questi non si possono... Ingegnere. È giusto? Giusto perché lo strumento e l'essere umano ha creato l'ingegnere. Fidatevi degli ingegneri, ragazzi. Date loro fiducia. Fidatevi. Allora, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti, dai. Strumento ed erba. Cliccate sulla campanellina. Cliccate sulla campanellina degli avvisi. Mi raccomando, un giretto sui social. Link in basso in descrizione. Ciao a tutti!